Il corso l'addetto al recupero crediti, tecniche di comunicazione, fornisce strumenti essenziali per migliorare l'efficacia del recupero crediti. Grazie a tecniche avanzate di comunicazione, permette di trasformare un'attività spesso difficile in un'opportunità per instaurare rapporti costruttivi con il debitore. Lo spazio di confronto offerto consente di acquisire competenze pratiche per gestire situazioni delicate, ottenendo risultati migliori per l'azienda e per l'operatore. Un approccio relazionale più strutturato riduce le difficoltà e aumenta la produttività nel recupero crediti. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.